Il riciclaggio è importante. Junior vuole aiutare Zari con un progetto di arte. Questo progetto di arte è sul riciclaggio. Ah, il riciclaggio è importante! Sì, ma ho bisogno di più bottiglie di plastica. Ti posso aiutare? Junior va via, poi ritorna con uno zaino pieno di bottiglie. Grazie, Junior! Prego, ti voglio aiutare a salvare il pianeta! Eddie arriva. Ha una bottiglia di limonata. Papà, ho bisogno di quella bottiglia. Junior prende la bottiglia di Eddie. Junior, quella è la mia ultima bottiglia. Qualcuno ha preso tutte le bottiglie. Junior butta la limonata di Eddie sul pavimento, poi dà la bottiglia a Zari. Ecco un'altra bottiglia! Junior, c'era della limonata in tutte quelle bottiglie! Sì, ho buttato tutto nel lavandino! Perché? Perché ti voglio aiutare a salvare il pianeta! Salvare! Plastica! Limonata! Pazza! 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 Grazie a tutti